Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria. Allora, allora, allora. Come vi ho già detto, gli amici Marco Mai e Andrea Selmi sono andati in Inghilterra e sono andati in pellegrinaggio, prima a Bovington, dove mi hanno comprato questo, e poi a Duxford, dove hanno comprato questo qui. E quando mi è arrivato, quando quei due pazzi, quando quei due meravigliosi pazzi mi hanno spedito il pacco a casa, io, perdonatemi, non riuscivo a crederci, veramente. Grazie, grazie ragazzi, grazie veramente. Allora, questo libro, di cui vi parlerò in questo video, si intitola Classic World War II Aircraft Cutaways in Association with the Aeroplane and Flight. Praticamente si tratta di una raccolta di spaccati, di cutaway, di spaccati, di disegni spaccati di aerei della Seconda Guerra Mondiale risalenti agli anni del conflitto. Questo è un B-17, questo ovviamente è l'inconfondibile B-38. L'autore è Bill Gunston, universalmente considerato come uno dei più grandi esperti di aviazione della Seconda Guerra Mondiale. Un libro, questo, che definire, come dire, eccezionale è poco. Perché? Perché vi dico solo questo, si tratta di una raccolta, ripeto, si tratta di una raccolta di disegni, di spaccati tecnici di aerei della Seconda Guerra Mondiale risalenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono tutti i grandi protagonisti, Spitfire, Mesha Smith 109, Tempest, Hurricane, Lancaster, Sterling, eccetera, eccetera, eccetera. Ma anche, come dire, aerei meno noti, tipo per esempio il Miles Messenger, eccolo qua, un addestratore, un aero da turismo e addestratore che ebbe una certa fama nel primo dopoguerra. Guardate, eccolo qua, eccolo, eccolo, signori, lasciamo stare, lasciamo, lasciamo, aerei brutti, c'è calciatori brutti, dovremo fare la rubrica aeroplani brutti, insomma. E questo c'è, però guardate l'artista, il lavoro degli artisti, c'è qualcosa di eccezionale. Cioè tenete presente una cosa, questo volume è preziosissimo, perché c'è di che rendersi conto di una cosa. Cioè, ecco, questo qui per esempio è l'Albmarl, l'Armstrong Whitworth Albmarl. Guardate che roba. Cioè, aerei più o meno noti, più o meno conosciuti, ma i disegni tecnici sono a dir poco eccezionali. Questo per esempio è il muso dello Evroyork. Guardate, signori, guardate. Cioè, gli artisti di questi disegni hanno lavorato senza computer, senza CAD CAM, senza la tavoletta grafica, senza le correzioni automatiche da fare al computer. Hanno fatto tutto a mano. Tavolo da disegno, tecnigrafo, righello, pennino e tanta, tanta pazienza, tanta, tanta attenzione. Ci sono persino i disegni dei motori. Questo qui per esempio è il Bristol Hercules 16. Eccolo qua. Con le sue, col suo complicatissimo sistema di valvole a fodero. Eccolo qua. C'è per esempio, vabbè, i motori meno noti come il Nepier Dagger. Eccolo qui, anche questo, con il suo bravo disegno. C'è, capolavoro assoluto, secondo me, di questo libro, lo spaccato del Saber 2, del Nepier Saber 2. 16 cilindri ad H, praticamente un doppio boxer sovrapposto. Eccolo qua. Guardate che roba. con il suo sistema di valvole a fodero, le valvole di, insomma, con le valvole a fodero, tutto alberi, motori, bielle, biellette. Insomma, qualche cosa di eccezionale. Un'opera d'arte fantastica. Spero che si riescano a cogliere i particolari. Insomma, un libro, questo qui, di Bill Gunston, praticamente spaccati, aeronautici, originali della Seconda Guerra Mondiale che veramente è prezioso per capire come erano fatti gli aerei dell'epoca. Cioè, guardate, il Gloucester Gladiator con praticamente il rivale dei nostri CR-42 in Etiopia, in Libia e su Malta fino a tutto il 1940. Guardate che roba. c'è il, ecco, l'addestratore Avro Hanson, anche questo qui. Cioè, insomma, signori, che vi posso dire? La maestria di questi disegnatori, il Bristol Bombay, guardate che roba. Guardate che roba, signori, guardate che roba. Cioè, sono la scuola dei disegnatori tecnici inglesi, era a dir poco eccezionale. C'è un episodio curioso da raccontare. Mi dovete perdonare, ma non riesco a ritrovare il numero di motociclismo d'epoca in mio possesso in cui c'era un servizio su un disegnatore inglese di spaccati tecnici. Era nato come disegnatore di spaccati aeronautici, passò per passione e per divertimento a fare spaccati di motori motociclistici e automobilistici da corsa. Il suo capolavoro era, per esempio, lo spaccato del motore Ducati Panta, il primo motore con la distribuzione a cinghia dentata. E' passata la storia di questo disegnatore per essere riuscito a violare uno dei segreti meglio costuditi della Honda durante gli anni Sessanta. Negli anni Sessanta la Honda aveva tirato fuori alcune impressionanti moto da corsa. la 6 cilindri 250 di Michael Wood, la terrificante 5 cilindri 125 con cui Luigi Taveri vinse due titoli mondiali, le spaventose bicilindriche 50 cm3 che raggiungevano il regime di rotazione a 25.000 giri, cioè cose da pazzi. E c'erano soprattutto le 4 cilindri 350 e 500 da Gran Premio guidate da Mike Aylwood. Uno dei segreti meglio custoditi della Honda era la testata e la distribuzione delle Honda 500 quattro cilindri. Approfittando, come dire, della possibilità di gironzolare per i box Honda, questo signore, questo disegnatore, prese e si mise a curiosare sulla Honda di Elwood, sulla Honda 500 di Elwood, ed ebbe la possibilità, incuriosito, mise un dito, visto che il motore era stato smontato, tolti i carburatori, tolti i carburatori, tolto l'impianto di scarico, per curiosità mise un dito dentro la testata e studiò, come dire, quello che c'era dentro, la distribuzione, la conformazione della camera di scopo e così, e sotto gli occhi, prima incuriositi, poi spaventati e poi inorriditi dei tecnici giapponesi, tracciò in pochi istanti un disegno della segretissima testa, della segretissima testa a quattro valvole della Honda 500 da Gran Premio di Mikelut, per dire, cioè con un dito questo è riuscito a carpire uno dei segreti industriali meglio custoditi degli anni Sessanta, per dire. Insomma, un libro che è pieno zeppo di disegni, notizie, informazioni, che ci fa vedere, come dire, le strutture degli aerei protagonisti della Seconda Guerra Mondiale. Per esempio, lo Halifax, ecco ne qua uno, ecco, lo Halifax 3, con i suoi bravi motori Bristol Hercules, guardate qualche roba, c'è per esempio, ecco, un aereo poco noto come lo Henschel HS 126, eccolo qui, uno dei ricognitori, uno dei ricognitori tattici più noti della Luftwaffe, ecco, c'è per esempio, ecco, c'è per esempio, tanto per dire, ecco, anche il Focke-Wulf 190, eccolo qua, signori, guardate che roba, dico, guardate che roba, e ricordatevi che questi disegni qua non sono stati fatti al computer, occhio umano, mano ferma, precisione, e soprattutto, tanta, tanta, tanta pazienza, tanta, tanta abilità. Insomma, signori, un libro, un regalo, preziosissimo, straordinario, che mi è stato fatto da Marco Mai e Andrea Selmi, che veramente ringrazio di tutto cuore, ragazzi, veramente, grazie, un libro che mi servirà, penso, per farvi vedere alcune interessanti soluzioni costruttive che sono presenti. Bill Gunston, Classic World War II Aircraft Cutaways, spaccati aeronautici degli aerei della Seconda Guerra Mondiale. Un libro eccezionale, un regalo preziosissimo, un regalo che sfrutterò quanto prima. Un grazie di tutto cuore, ripeto, a Marco e ad Andrea, siete degli amici, veramente, grazie, grazie davvero. Quindi, cari signori, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, ciao!